Allora, noi chiediamo la dimissione di Maroni, in quanto ci siamo stupiti che Maroni si sia stupito di quanto è successo. Noi ci chiediamo, ma Maroni, fino adesso, dove ha vissuto? Per la prima volta nella storia di tutte le condizioni libertari, Expo Milano, questa volta su un suolo privato, non era mai successo che venisse fatto un suolo privato. E l'Agenzia del De Manca ci dice che quel suolo, se fosse rimasto solo al Ligolo, avrebbe avuto un valore economico di 10 euro al metro quadrato, ma se fosse diventato zona D, cioè zona industriale e commerciale, avrebbe avuto un valore di 163 euro al metro quadrato. Abbiamo pagato questo suolo 163 milioni di euro. Nella commissione bicamerale sull'ecomafia era stato detto ed affermato che quasi il 100% dei cantieri in Lombardia, relativamente al movimento terra, era in mano all'andrangheta. Ormai in Lombardia, così come in tantissime altre zone d'Italia, non c'è più un problema di infiltrazioni mafiose, perché questo è un dato di fatto. Forse, a mio parere, ci sono al massimo delle infiltrazioni di legalità. E questo è il vero scandalo. Ci sono delle infiltrazioni di legalità, che quasi danno fastidio a un sistema che campa sul silenzio dei cittadini e spesso dei media che non si accorgono di quello scandalo che sta accadendo qui a Milano e in Lombardia è in tutta età. Quando siamo entrati in questo palazzo abbiamo iniziato subito a denunciare tutta una serie di stortori di questo sistema formigoniano che si è, insomma, si è diventato negli anni, 18 anni di un impero, sono difficili da distruggere e di certo Maroni non è il cambiamento, perché sta dimostrando nei fatti che sta semplicemente tutelando le forze politiche che hanno incontrato con Formigoni, dato che la sua Lega ne faceva parte. Noi siamo andati a fare un tour al City Expo e poi ci hanno deriso tutti, oggi i fatti dicono che evidentemente abbiamo ragione, però, insomma, l'importante è che alla fine tutti arrivino sulle nostre posizioni. Dario Violi, ecco uno spray, settimana scorsa abbiamo fatto un intervento contro il parassitismo di questo palazzo, parassitismo di una politica che si attacca ai soldi, che gestisce i soldi come se fosse un affare proprio. abbiamo letto nelle varie cronache dei conflitti di interessi, ma noi diciamo che sono tutti uguali. Non siamo solo noi a dirlo, sono i fatti che lo provano. Provano che ci sono consulenze milionarie, due avvocati, uno che poi lavorava per Impregino, azienda notoriamente vicina al centro-destra, e uno che lavorava per CMB, una delle tante cooperative rosse che lavorano su appalti di infrastrutture lombare. Quindi noi siamo qua a denunciare queste cose, sono tutti uguali. Siamo sempre di fronte al solito intreccio insano, che purtroppo è sistematico all'interno di questa regione e che noi intendiamo rompere definitivamente, fra manager di enti pubblici, Regione Lombardia e Compagnia delle Opere, perché adesso cominciamo a chiamare le cose con il loro nome. Dobbiamo avere paura di dire le cose come stanno. L'ipocrisia della politica partitica che consente, per questo noi diciamo tutti a casa, perché con questa classe dirigente della politica partitica non andremo da nessuna parte. La transparenza sembra una moda intellettuale, in realtà è un concetto fondamentale per portare un maggior controllo dei cittadini sulla cosa pubblica. Vi faccio solo due esempi. Io ho chiesto informazioni, ovviamente con strumenti ufficiali. a Milano non mi hanno neanche risposto. Ho chiesto documentazione a Lombardia Informatica, mi hanno preso in giro per mesi, mandandomi pezzettine di carta, infine mandandomi dei documenti convertiti da omissi, cosa assolutamente legale. Ho dovuto fare un ricorso al difensore regionale. Lo sai che non è sempre una cosa da dire. Quindi continuano a gestire le cose come se fosse cosa loro e non cosa pubblica, negano informazioni all'esterno. Allora, i casi sono due. O lei davvero non riesce a vedere quello che sta succedendo intorno a lei, però a questo punto non è in grado di essere il governatore di Regione Lombardia, oppure anche lei sa e in questo caso non è in grado di essere il governatore della Regione Lombardia e quindi le chiediamo di dimettersi. E poi c'è la posizione vergognosa e inqualificabile del Presidente del Consiglio regionale. Sa, dire dell'ingegner Rognoni che è una persona retta e pulita, e lo è anche tutte le persone che sono state coinvolte dentro in queste indagini, beh, sono parole che fanno riflettere. Quando il Presidente del Consiglio regionale della Regione più importante d'Italia si alza in difesa di un arrestato titolare per dieci anni dell'appaltificio Infrastrutture Lombarde, beh, evidentemente c'è un serio problema di cultura della legalità che è peggio. Ma vi ricordate voi due, il Presidente Cattano e il Presidente Maroni, l'altro giorno in Sala Gaber, che cosa recitava l'attore quando impersonava il dialogo tra Falcone e Bersellino? Beh, lui diceva che non sono i processi e le condanne che devono definire il livello di legalità del Paese. Vi invito a rivederlo, quello spettacolo teatrale, perché è lì il messaggio. Non è quello il punto, non sono i processi, non sono le indagini, non sono le prove giudiziarie. I tribunali definiscono una questione giudiziaria, ma esiste un livello culturale di legalità che è altro e che deve passare dalla politica e fin tanto che la politica si alza per difendere persone arrestate non andremo mai avanti nella direzione giusta. Con quelle sue parole, Presidente Cattaneo, lei ha scelto da stare dalla parte sbagliata e ha scelto di stare dalla parte sbagliata anche Squinzi, il Presidente di Confindustria, come anche oggi Alfieri e il Consigliere Ambrosoli, quando dicono che Expo deve andare avanti indipendentemente da quelli che sono le indagini in corso, in barba e in sfregio totale a tutti quegli imprenditori invece onesti che tutti i giorni soffocano a causa della zavorra, della corruzione che è insita nel vostro sistema politico e che avete generato. E non veniteci a parlare poi di lavoro, di tutela del lavoro, perché questi imprenditori soffocano grazie a questa zavorra. Consigliere Carcano, invito a concludere, 10 minuti sono trascorsi. Concludo dicendo quindi che chiediamo le dimissioni del Presidente Maroni e del Presidente Cattano e che quindi non sarà certo la visita del venditore di pentole tra qualche settimane che arriverà qui in Regione, perché evidentemente anche la buona sintonia tra Formigoni e Martina la dice lunga a far riflettere su quello che è il messaggio culturale che vuole passare il PD col governo attuale. Grazie. 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 Grazie.